Resteranno affissi fino al 15 febbraio i 110 manifesti che l'IRCI ha realizzato in occasione del giorno del ricordo, un'iniziativa che per certi versi rimanda al concetto della mostra diffusa. I manifesti sono stati infatti distribuiti in alcune zone della città, Barcola, Le Rive, San Giacomo, Via Cantù, Via Fabio Severo, Chiarbola. I manifesti sono di varie dimensioni e sono stati posizionati a varie altezze. Osservando i volti delle persone in esse ritratte, si potrà meditare sul senso e la portata del loro destino, costretti all'esodo, come si legge in una nota diffusa dall'IRCI, dall'aggressività e dalla crudeltà dell'imperialismo jugoslavo e dai nazionalismi sloveni e croati. I manifesti sono strutturati attraverso due parole chiave, ovvero esodo e destino, che sono inseriti a commento di immagini particolarmente significative, sulle quali, a loro volta, sono inseriti brevi stralci tratti da Alina Galli, Diego Zandel, Biagio Marin, Simone Cristicchi, Marisa Madieri, Bepi Nieder. Anche quest'anno Telequattro seguirà, in diretta da Basovizza, la commemorazione del giorno del ricordo a partire dalle ore 10.